Ristauro del piroscapopatria di Como, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stanziato 4 milioni e mezzo di euro per gli interventi di recupero e manutenzione straordinaria. L'annuncio è arrivato direttamente dal Ministero. Tempi e costi dell'operazione di restauro, 4 milioni e mezzo di euro e due anni di lavori erano stati ufficializzati durante la visita del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, arrivata a Como proprio per la questione del patria e che ora torna a ribadire. Questo piroscafo ha segnato la storia ed è un patrimonio non solo della provincia di Como ma di tutto il paese. Sono soddisfatto che possa essere recuperato e possa diventare l'occasione per una nuova attrazione turistica e di lavoro per il territorio, ha commentato il Ministro e Vicepremier Salvini. Sarà la gestione governativa dei servizi pubblici di navigazione sui laghi maggiore di Garda e di Como responsabile degli interventi. La navigazione si impegna tra l'altro a destinare il battello storico alla navigazione di linea, anche a fini turistici per attività ricreative, culturali, didattiche e promozionali del territorio. Il battello, dopo la sigla dell'accordo tra amministrazione provinciale e navigazione laghi, che prevede la cessione e incomodato d'uso del piroscafo per 25 anni, lo scorso giugno è stato trainato da Villa Olmo al cantiere di Tavernola, dove sarà restaurato. Ed oltre agli interventi di restauro, sono necessari anche una serie di aggiornamenti sulla sicurezza, lavori e adeguamenti per poter tornare a solcare le acque dell'ario. Dopo anni dunque di immobilismo, rinvii, intoppi, lungagini burocratiche, conseguente degrado e appelli, finalmente a giugno era arrivata la svolta per le sorti del patria. Gli attesi interventi di restauro partiranno i primi mesi del nuovo anno.